C'è arrivata questa commessa di produrre alcuni panettoni che poi verranno venduti un po' su Milano, un po' se non sbaglio su Napoli e il resto rimangono qui a Roma con partner Radio Globo e Delivero che hanno tirato fuori questa iniziativa del panettone musicale. Che insomma su questa scatola ci sarà un QR code che riporta una playlist Spotify con canzoni natalizie e il tutto insomma verrà venduto dal 25 novembre fino a Natale. Sai in quali locali vanno i panettoni a Milano? Non vanno in locali, si compra direttamente in piattaforma, si compra soltanto online, sullo stoccaggio sta a Milano ma poi vietrà soltanto acquistato tramite piattaforma non abbiamo locali appoggiati. Bene così un'eccellenza di Roma, i panettoni del panificio Roscioli Pietro e Andrea, sottolineo Andrea, arrivano a Milano, arriveranno a Milano, bene grande successo.